Sì, grazie Giuseppe. Pronti quindi per le nostre domande e risposte? Oggi inauguriamo la rubrica dedicata alla vita di condominio e lo facciamo con una gradita ospite. Si tratta di Simona Bastari, amministratore di condominio. Benvenuta. Buonasera, grazie. Ma soprattutto amministratore di un condominio particolare, meglio, ideatrice del progetto di Condominio Felice. Che cos'è Bastari, questo Condominio Felice? Sì, io ho creato il brand Condominio Felice perché pongo al centro dell'attenzione la persona. Quindi io ritengo che sia responsabilità dell'amministratore migliorare la comunicazione fra i condomini. Migliorando la comunicazione fra i condomini diminuiscono le liti condominali. Ecco, una delle fonti di liti condominali, argomento di tante segnalazioni che ci arrivano dai nostri telespettatori in questo periodo, è il moroso del condominio. In quasi tutti i condomini, ecco non in tutti, in quasi tutti è presente il condomino moroso. Che cosa fare per tutelarsi Bastari? Il condomino moroso chiaramente è colui che non paga gli oneri condominali. Nel momento in cui comincia a formarsi la morosità e quindi vanno avanti le rate e il condomino non paga, l'amministratore che cosa fa? Inizia a mandare una lettera di sollecito. Dopo aver mandato una lettera di sollecito, se il condomino continua a non pagare, chiaramente ce l'ha messa in mora. Quindi magari la lettera del legale che richiede il pagamento della quota. Dopodiché l'amministratore ha comunque degli obblighi che sono dettati proprio dalla legge, nel senso che deve comunque recuperare le quote condominali entro 180 giorni, quindi 6 mesi, dalla chiusura del bilancio. Ma prima di cominciare tutto questo iter che noi abbiamo quasi insomma riassunto in questo nostro cartello, l'amministratore può intervenire autonomamente o deve avere proprio il mandato dall'assemblea del condominio? L'amministratore può intervenire autonomamente perché è proprio il codice civile con la riforma del 2012 che permette di nominare un legale di sua fiducia o comunque di fiducia del condominio che può iniziare ad esperire la fase proprio legale che inizia appunto con il decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso. Quindi quando si arriva al decreto ingiuntivo? Quando quindi insomma le vie legali? Le vie legali con il decreto ingiuntivo entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio. Mettiamo che il condomino continui a non pagare le sue spese comuni insomma, quindi le spese in evase, quelle che appunto non sono in cassa ecco, devono essere poi suddivise tra tutti gli altri condomini? Questa è la più grande paura dei nostri telespettatori sull'argomento? Capisco la paura dei telespettatori, in realtà si arriva a dover pagare le quote del condomino moroso dopo aver escusso, cioè dopo essere andati dal condomino moroso e aver fatto tutto il possibile per recuperare le quote ma in qualche caso potrebbe non essere capiente il suo patrimonio e quindi a quel punto, ma solo a quel punto scatta la solidarietà degli altri condomini e quindi l'obbligo da parte degli altri condomini di versare la quota non pagata del moroso. È un obbligo, quindi devono sostossare tutti? Sì, sempre alla fine del procedimento, insomma quando effettivamente il condomino non ha nulla a cui poter attingere per recuperare la cifra. Al condomino che non sta pagando c'è la possibilità di sospendere per esempio un servizio, non lo so, l'uso dell'ascensore per esempio? Allora, è possibile e chiaramente l'uso di parti comuni, allora le scale noi le possiamo togliere chiaramente, l'uso dell'ascensore potrebbe essere tolto perché si potrebbero mettere delle chiavi che date a tutti coloro che pagano meno il condomino moroso. L'altro servizio che potrebbe essere sospeso sempre che sia possibile tecnicamente è anche il riscaldamento centralizzato. A volte facendo leva su queste cose magari il condomino, sempre che abbia capienza, è portato più a pagare. Grazie, grazie alla nostra ospite Simona Bastari, ci fermiamo qui per questa rubrica dedicata alla vita di condominio, la prima di tante altre. A te Giuseppe.